Buongiorno canali! Ciao cantanti! Oggi parleremo di un argomento che mi è molto caro, che è la volontà, l'atto di volontà, perché questo è cantare. Ma prima di iniziare non dimenticatevi di mettere un like e di condividere i miei video e di iscrivervi al mio canale. E se volete potete sostenere il mio progetto con una donazione su Paypal o su Patreon. In sottofondo sentirete delle improvvisazioni eseguite dal maestro di percussioni Corrado Dado Sezzi e in alcuni casi anche delle improvvisazioni mie con la voce. Buon lavoro a tutti! Volontà Muoversi con la natura e nella natura è spontaneità, ma anche volontà. Non si può cantare in modo passivo o pensare all'esecuzione di un brano senza la determinazione di superare i propri limiti. Se ogni giorno ripetiamo sempre la stessa passeggiata per non stancarci, la nostra esplorazione sarà priva di curiosità e perderà entusiasmo. Cercare di ascoltarsi per superare i propri limiti è un atto di volontà e ci regala nuove idee, nuove scoperte, nuovi panorami meravigliosi da ammirare e da cui trarre ispirazione. Così nasce la creatività. Così nasce la creatività. Esercizio 4 Esercizio 4 1,2,3 Esercizio 5 1,2,3,4 Esercizio 5 2,3,4 Esercizio 5 Esercizio 6 1,2,3,4 1,2,3,4 Esercizio 5 Esercizio 6 Esercizio 6 Esercizio 6 Esercizio 6 10,2,3,0,4 Esercizio 6 né maggiori né minori. E poi canteremo il classico arpeggio, quello che compone anche gli accordi, quindi primo, terzo, quinto e ottavo grado. Dopodiché canteremo il vocalizzo di Rossini. Uno, tre, cinque, otto, sette, cinque, quattro, due, uno. Questi i gradi della scala. Quindi iniziamo da intervalli di quarta, quinta e ottava, costruiti sulla scala diatonica maggiore. Voi. Voi. Arpeggio. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1, do, ba-da-dwee, da-ba-do-ba-da-dwee, do, ba-da-dwee, da-do-ba-da-do, com me, with me, do, ba-da-dwee, da-do, e ora voi, do, ba-da-dwee, da-do, e ora voi, do, ba-da-dwee, da-do, e ora voi, do, ba-da-do, e ora voi. Di nuovo le quarte, le quinte e le ottave. Again, fourth, fifth and eighth with me. One, four, one, five, one, eight. One, four, one, five, one, eight. e ora terminiamo con il vocalizzo di Rossini and now eventually Rossini's vocalize 3, 4 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 9 10 15 15 15 16 16 16 17 17 21 21 22 22 22 22 23 22 23 23 24